buongiorno a tutti anzi dovrei dire buonasera dopo aver fatto la schedina e bollettine del gigione per quanto riguarda le partite di venerdì si torna a parlare delle notiziole invece del gigione questa volta notizie belle notizie belle devo dire delle notizie curiose belle allegre siamo ci avviciniamo al natale quindi ogni tanto ci vuole anche qualcosa di fresco di allegro di felice quindi partiamo subito con questa notizio la di metà ottobre più o meno fine ottobre diciamo mancano due mesi a natale c'è già chi ha iniziato a decorare la casa o a fare l'albero effettivamente chi ama questa festa infatti vorrebbe che fosse natale tutto l'anno poi ci sono quelli come il grinch che invece il natale già non lo sopportano quando sentono solo il nome purtroppo questo non è possibile tuttavia adesso c'è un prodotto che potrebbe comunque aiutare a vivere il clima delle feste in tutte le stagioni si tratta del christmas lights iphone charger ossia di un cavetto usb per caricare il proprio smartphone dotato di lucine natalizie è lungo circa 50 centimetri ed è dotato di 10 luci al led ognuna di un colore diverso che si accendono quando il telefono viene messo in carica sono curioso di vedere se il telefono poi si ricarica nel tempo previsto ci mette il doppio del tempo perché ci sono anche le lucine che rubano batteria come si suol dire quindi ci mette di più staremo a vedere comunque l'intento dei produttori di questo speciale cavetto usb è proprio quello di far vivere l'atmosfera delle feste ogni volta che si carica il cellulare il prodotto è disponibile su amazon quindi andate a curiosare su amazon per 15 dollari quindi 15 dollari vuol dire che siamo sotto addirittura i 15 euro e sta già avendo un discreto successo perché potrebbe essere un simpatico pensiero da regalare a parenti amici proprio per natale così uno risparmia 15 euro ne compra una cinquantina a fare regali a tutti e che figata che figata ha speso un kaiser oppure per fare un regalo a se stessi e immergersi sin da subito nella magica atmosfera natalizia bene questa era la prima notizia bellina e dai è bellina questa notiziona veniamo alla seconda notizia notizia del 30 di ottobre fatto avvenuta a viareggio andiamo a leggere ognuno al suo angelo custode e davide ha scoperto il 30 ottobre di averne uno davvero speciale un dipendente della croce rossa che gli ha letteralmente salvato la vita sirio caramazzi non era in servizio ieri mattina sarebbe stato di turno nel pomeriggio era semplicemente a fare degli acquisti via fratti davanti alla pineta di ponente il suo intervento con massaggio cardiaco e defibrillatore è stato fondamentale per tenere in vita davide cinquantenne via reggino che era andato in arresto cardiaco in strada lungo il marciapiede davanti a sua moglie e sua figlia quindi stava passeggiando tranquillamente e gli è venuto il sciopone attimi terribili minuti interminabili poi il lieto fine l'uomo portato d'urgenza in codice rosso all'opa di massa a poco alla volta ha ripreso conoscenza ha iniziato a respirare autonomamente e ha riaperto gli occhi ha scherzato con medici e infermieri e cosa più importante ha potuto riabberciare e tranquillizzare sua moglie e sua figlia proprio le due donne con le loro grida e richieste di aiuto avevano attirato l'attenzione di sirio che si trovava all'interno di un negozio le parole di sirio la soddisfazione più grande per me che faccio questo lavoro da 30 anni ha detto è quella di poter sentire che l'intervento è andato a buon fine che quell'uomo non ha avuto danni cardiaci o cerebrali è una gratificazione unica il 50enne accusato al maturre appunto nella mattinata poco prima delle 10 e 30 era andato in arresto cardiaco e non rispondeva più a nessuna sollecitazione l'angelo custode sirio carmazzi si è inginocchiato accanto a lui strappandogli la camicia iniziando a praticargli il massaggio cardiaco con mani esperte nel frattempo ha chiamato il 118 per allertare i soccorsi ma in attesa dell'ambulanza e dell'automedica ha proseguito nelle operazioni salvavita sempre restando in contatto con la sala operativa del 118 e aiutata anche da un volontario della misericordia di massa rosa anche lui capitato lì per caso il più vicino defibrillatore si trovava alla farmacia di via marco polo troppo lontano ma per fortuna da una casa privata è uscito un signore un dentista con un suo defibrillatore questo ha detto sirio mi ha permesso di dare una prima scarica e poi a breve distanza una seconda scarica a seguito della quale l'uomo ha ripreso a dare segni di vita l'ambulanza della croce rossa è arrivata in appena sei minuti ma probabilmente sarebbero stati troppi se sul posto non ci fosse stato sirio e pensare che avevo avuto una serie di ritardi ieri mattina sono fatalista si vede che dovevo trovarmi lì proprio in quel momento ma anche detto che ha funzionato benissimo il coordinamento con il 118 e tutti questi fattori insieme compresa la presenza di un volontario della misericordia di massa rosa hanno contribuito a salvare la vita di quella persona quindi vedete che saper fare il massaggio cardiaco saper usare il defibrillatore può essere sempre molto utile teoricamente lo so usare teoricamente però è meglio che non lo uso perché non sono abilitato per il massaggio cardiaco sono capace di farlo veniamo alla terza notizia anche questa molto bella molto allegra molto bellissima ecco diciamo perché all'ospedale santo bono sempre notizie di fine fine ottobre all'ospedale santo bono pausillipon di napoli dove due bambini hanno ritrovato il sorriso così come i loro familiari dopo un intervento complesso e delicato cui dovevano essere sottoposti per muovere dei tumori cerebrali il tutto dall'operazione condotta dal neurochirurgo giuseppe cinalli direttore del dipartimento di neuroscienze del santo bono pausillipon alle dimissioni del dal nosocomio in sole 24 ore l'intervento è stato effettuato con la termoterapia interstiziale laser che è la lit è una tecnica all'avanguardia disponibile in italia dal 2018 per gli adulti e da soli due mesi utilizzabile per il trattamento dei tumori cerebrali infantili queste sono le notizie che ci piacciono queste sono le notizie che ci piacciono e il professor cinalli è il primo specialista ad eseguirla in italia sentiamo le dichiarazioni del medico dopo appunto questa operazione di grandissima libidine coi fiocchi un bambino che viene dimesso dopo solo 24 ore invece dei sette giorni dell'intervento tradizionale ed è già sorridente la sera stessa dell'intervento è un vantaggio immenso i benefici sono molti e rischi si riducono al minimo abbiamo distrutto un tumore cerebrale in due bambini utilizzando semplicemente una bra laser il cui calore ha lentamente distrutto il tumore sotto diretto controllo della risonanza magnetica queste le sue parole ecco queste sono tre belle notizie che vorremmo sempre poter leggere ma ahimè magari magari comunque detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video spero di potervi leggere ancora queste belle notiziole ma staremo a vedere ne sono arrivate di nuovo le ho già messe da parte piano piano ve le leggerò detto questo vi saluto vi ringrazio e vi vado a mangiare che ho appena finito di fare gli articoli per interlive e adesso mangio ciao